Importante opportunità per Valtiverina, Casentino e tutti i comuni compresi nella zona a rischio sismico 2 che potranno accedere ad alcuni bandi promossi dalla regione toscana. Le cui linee di indirizzo sono state approvate dalla giunta regionale con il documento operativo di prevenzione sismica. Primo bando da 12 milioni e 430 mila euro è destinato agli interventi di prevenzione sismica sugli edifici pubblici strategici e rilevanti proprio con priorità per la zona sismica 2. Si tratta nello specifico di interventi strutturali di adeguamento e miglioramento sismico, i cui finanziamenti saranno già attivati a partire dal 2017. Il secondo bando invece da 8 milioni e 850 mila euro è destinato a interventi di prevenzione sismica sugli edifici privati. Si tratta di interventi strutturali di rafforzamento e riparazione locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione. In particolare, tale attività è finalizzata alla zona sismica 2 con una priorità per i comuni della Valtiberina. Gli edifici oggetto di finanziamento sono quelli destinati ad uso residenziale o a sede di attività commerciale, artigianale e produttiva. La prevenzione del rischio sismico, commenta l'assessore Vincenzo Ceccarelli, è un tema centrale e costituisce una fondamentale opera pubblica. Questi bandi rappresentano una grande opportunità per la messa in sicurezza di edifici pubblici e privati nel territorio aretino a più elevato rischio sismico.